Spockta verso il centro Poi pallone tagliato male Recuperato bene da Zella Che lancia direttamente Kodekà Kodekà accende il motorino Kodekà 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 sola davanti al portiere Kodekà lo salta il tiro La zampata del giaguaro Al ventisettesimo minuto Grandissimo gol di Bianca Kodekà Grandissimo lancio di Eugenia Zella Gigi Eh sì qua Grandissimo pregio di questo gol Perché Zella Ha preso palla Ha visto lanciata Kodekà Che era pronta ad accendere il motorino A bruciare via tutte le avversarie Gennari L'imbucata su Gonne Dugo chiama fuorigioco Non c'è il tiro E il gol E il gol di Gonne Ma si lamentano per un fuorigioco Le ragazze A me sembrava fuorigioco A me sembrava fuorigioco Poi Grumelli Scende Avallone a prendersi palla Avallone sulla corsa di Berglund Berglund accarezza il pallone Prova a entrare in area Scusi una soluzione Quella di De Vecchi Che cerca subito di mettere un pallone Non è fuorigioco Il tiro E' gol E' buono E' buono E' buono Bellissima azione Bellissima azione Avallone che ha fatto un'azione Di recupero palla Ma Giulia Avallone sta sputando sangue Perché anche lei Come le sue compagne Codeca in pressing Reconquista pallone C'è dentro Avallone Che prova Giraxi Allarga per Berglund Berglund mette giù Berglund Satta anche il portiere Poi Codeca Il tiro E' finita Gigi E' finita Una partita Finiscessima Finiscessima Una partita che si era Finiscessima Complicata La zampata del giaguaro Al quarantatresimo minuto Il gol che chiude la partita Incredibile Gigi 3 3 E' azione E' azione a partita Tutto da quello che è stato Il grido del mister Il grido del mister Il grido del mister